Ben ritrovati a tutti amici, oggi qui con noi abbiamo di nuovo Andrea Lombardi che è già stato diciamo nostro ospite varie volte, non ha bisogno di varie presentazioni il pubblico di Ottolina insomma lo conosce direi abbastanza bene intanto ciao Andrea e grazie di aver accettato questo nostro invito Ciao Alessandro, grazie a te, grazie a voi, è sempre un piacere tornare qui siete i miei comunisti preferiti Piacere nostro, piacere nostro, tu sei il nostro reganiano preferito diciamo e noi non ce ne sono tanti altri Ottimo Allora, senti, la scorsa volta non abbiamo parlato di cose particolarmente serie quindi insomma questa volta ci faceva piacere fare una chiacchierata un pochino più a tutto tondo sulle questioni politiche più scottanti La prima di queste diciamo riguarda naturalmente la guerra in Ucraina che come italiani, europei, chiaramente un po' l'evento geopolitico forse più importante ed è un po' anche il punto di partenza per capire tante cose che stanno accadendo a livello sia politico ma anche dell'informazione in questi mesi, in questi anni in Italia, in Occidente, in Europa, eccetera, eccetera E a questo proposito ti hai fatto un video, diciamo anche molto divertente l'11 luglio in cui parlando un po' dello stato di salute e della propaganda occidentale sull'Ucraina sulla guerra in Ucraina e constatando insomma che poi anche i media mainstream, così come le istituzioni forse stanno prendendo atto e sono costrette diciamo ad ammettere una realtà un tantino diversa da quella che hanno raccontato negli ultimi anni partivi da questo articolo di Open dell'11 luglio appunto in cui appunto si ammetteva sostanzialmente cose che i cosiddetti filoputiniani di cui noi facciamo evidentemente parte hanno sostenuto un po' in questi mesi, no? Quindi che l'economia russa ha retto alle sanzioni che in questa fase l'economia russa e la macchina militare bellica russa è in grado di sostenere questa guerra probabilmente ancora per anni quindi è detto insomma questo articolo pubblicato su Open, no? Quindi diciamo un giornale non banale, un giornale diciamo non uno tra gli altri Possiamo dire che ha passato il vaglio del fact checking quantomeno, no? Esatto, esatto Quindi hai proclamato un po' l'Independence Day, no? In maniera giustamente ironica Ecco, come vedi qual è lo stato di salute della propaganda diciamo non so come chiamarla, filo by the name e anche però forse non è nemmeno più il caso di chiamarla così sull'Ucraina, filo occidentale, filo nato sull'Ucraina Ma mi sembra che la propaganda vabbè se la passa sempre bene quindi insomma che stia bene, questo è fuori di dubbio però quell'articolo che hai citato è veramente un concentrato di cose fantastiche perché non è materiale originale di Open però hanno scelto di pubblicare Sai che c'è questa cosa tra alcuni giornali, un po' tutti però alcuni in particolare, no? di ripubblicare cose altrui o traducendoli o addirittura riscrivendole anche nella stessa lingua in italiano e questo è uno di quelli è un articolo diciamo che viene tirato giù da un pezzo che è uscito sul Wall Street Journal quindi un quotidiano di orientamento conservatore mettiamola così, non trampiano ma comunque repubblicano e Open decide di prendere questo pezzo lasciarsi ispirare, è citato non è che gliel'abbiano rubato però chiaramente quello che sto dicendo è che riprendono un'analisi fatta dal Wall Street Journal in cui si parla proprio di questo e cioè del fatto che come è possibile? Non ce ne eravamo accorti è qualcosa di inedito i russi sono bravi ad imparare come disturbare e rendere inefficaci le armi occidentali e possono andare avanti e addirittura li dicono per altri 4-5 anni di guerra virtualmente io direi in realtà all'infinito però già il fatto che loro citino questi analisti dandogli credito e dicendo il contrario di quello che è stato raccontato fino ad oggi mi ha fatto chiamare quel giorno l'Independence Day perché effettivamente mi sembrava quello il fatto qual è? Si parlava in particolar modo degli F-16 la domanda che si faceva era ma perché dobbiamo, perché devono essere inviati questi F-16? ma la risposta è perché tutto il resto è stato inertizzato perché molte armi occidentali utilizzano il GPS come sistema di guida gli HIMARS per esempio e qual è il problema? il problema è che i sistemi satellitari possono anche essere disturbati e quando il nemico diventa bravo a disturbarli e in questo non lo so io riprendo Open che riprende a sua volta il Wall Street Journal sembrerebbe che siano degli specialisti i russi e quindi praticamente sono riusciti a rendere fortemente inefficaci non dico da buttare via in qualche caso sì molte delle armi che gli abbiamo inviato che abbiamo inviato in Ucraina di conseguenza prendevano atto di questa cosa prendevano atto del fatto che anche dal punto di vista economico ecco commettono un errore vorrei sottolinearlo parlano di economia di guerra dicono grazie all'economia di guerra la Russia ha provato di essere in grado di poter portare avanti anche il conflitto per tanto tempo vorrei semplicemente correggere questo perché il resto dell'articolo è perfetto è praticamente perfetto ma sull'economia di guerra sbagliano perché la Russia non è in economia di guerra l'economia di guerra significa che il funzionamento del paese viene ridotto all'osso al minimo cioè la gente è praticamente costretta quasi a cercare le radici nei campi per mangiare perché tutto viene destinato alla macchina della guerra siamo a anni luce da questa condizione siamo a anni luce da un'economia vagamente di guerra l'economia russa è un'economia normale business as usual come direbbero gli americani i russi vivono a parte quelli che ovviamente sono a combattere ma gli altri vivono come prima vanno al supermercato, vanno al centro commerciale, vanno in vacanza non devono dare la fede d'oro alla patria non siamo arrivati a questo quindi non è neanche un'economia di guerra qualora mai dovesse esserci staremmo parlando comunque di tutt'altro film quindi con un'economia regolare hanno ottenuto questo risultato che mi viene da dire, se si può dire viene certificato anche da Open con quell'articolo facendolo suo e quindi direi che determina un quadro che è ben diverso da quello che era stato sostenuto fino ad oggi assolutamente, assolutamente sì, diciamo che l'impressione è che però appunto nonostante queste leggere ammissioni a cui sono sostanzialmente costretti poi però le direttive da questo punto di vista sono sempre le stesse insomma, cioè si ammette e anzi spesso è un discorso funzionale se vogliamo al dire visto che, va bene, non possiamo più dire che dobbiamo mandare le armi perché la Russia sta per fallire quindi ci serve un ultimo sforzo visto che questo non è più sostenibile diciamo che anzi ormai la Russia è forte ha un'economia di guerra e quindi anche noi bisogna attrezzarci quindi mandiamo altre armi perché appunto il nemico è più forte che mai diciamo poi ah beh sì, questo hai ragione non è che siano delle ammissioni fatte perché si ha intenzione o emerga un quadro per cui si dice abbiamo sbagliato no, chiaramente sono indirizzate sempre all'indirizzo politico e quello però credo anche che alla luce di quello che sta succedendo oltreoceano in questo momento si sia in una situazione comunicativamente intendo e la guerra va avanti per le sue dinamiche però propagandisticamente se non di stallo quantomeno di di vigile attesa per usare ecco un'espressione vigile attesa sì, 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 sì infatti poi anche tra poco parleremo anche un po' di quello che sta che sta accadendo in America perché ovviamente poi diciamo gran parte della partita si gioca lì ecco finché c'è il sostegno finché c'è il sostegno americano all'Ucraina la guerra va avanti finché gli europei ricevano ordini di continuare a sostenere la guerra in Ucraina la guerra va avanti e quindi insomma poi molto dipenderà diciamo dipende da che cosa succede lì e vedremo poi insomma che cosa potrebbe cambiare con un presidente o con un altro parleremo anche poi chiaramente della delle dimissioni di Biden giusto per dare un piccolo aggiornamento di una notizia di ieri che riguarda appunto sempre la questione della guerra in Ucraina c'è il ministro degli esteri di Ucraina o Kuleba è stato in Cina e ha fatto questa dichiarazione in cui si è diciamo dimostrato bagamento aperto all'idea di tenere dei nuovi negoziati con la Russia diciamo che però siamo ormai abituati anche a queste timide aperture quindi non credo che poi insomma è difficile dire quanto sia un segnale positivo nel senso che si stia veramente andando in una fase di negoziato o meno spesso quando vanno in Cina anche no anche spesso Zelensky quando va in Cina poi dichiarano in Cina fanno dichiarazione diciamo di timide apertura perché evidentemente insomma la Cina sta un po' spingendo sta un po' spingendo in quella direzione ecco però collegato al a questo argomento quindi collegato un po' a questo a questo conflitto con la Russia che implica anche un po' se vogliamo una una rimodulazione politica in seno alle democrazie liberali o quello che rimane delle democrazie liberali un altro argomento che mi interessava trattare con te è quello dell'informazione della libera informazione no? perché anche su questo è fatto recentemente un contenuto un video in cui spiegavi che sostanzialmente alcuni tuoi tweet erano stati probabilmente vittima del Digital Service Act quindi di questo di questo di questo provvedimento preso dall'Unione Europea recentemente che è volto in qualche modo a controllare maggiormente contenuti informazioni fake news possibilmente tra virgolette pericolose ecco su questo punto qua che cosa che cosa è successo che cosa è successo veramente? sì in realtà confermo che più che una idea è proprio così cioè è certificato che siano stati rimossi questi contenuti che ho pubblicato a causa del DSA quindi del Digital Service Act questo si può dire con certezza perché Twitter a differenza di altre piattaforme offre due tipi di contestazioni sui contenuti una è appunto l'utilizzo dello strumento segnala che segnala alla piattaforma quindi l'utente dice a Twitter questo contenuto viola secondo me il regolamento verifica però ha anche una una apposita sezione diciamo ha un bottone apposito per fare il reporting dei contenuti che secondo l'utente invece violano i termini del DSA che per chi non lo sapesse è un regolamento europeo quindi e possiamo chiamarla legge europea nel senso che essendo un regolamento vale per tutti non è che deve essere ricepita come le direttive che è entrato in vigore all'inizio dell'anno e poi più diciamo a vari step in realtà quindi diciamo che adesso è pienamente applicato è pienamente operativo e questo regolamento prevede tutta una serie di regole sulle piattaforme online ed è pensato tra le altre cose per combattere la cosiddetta disinformazione e dico cosiddetta perché non è definita nel regolamento come qualcosa di effettivamente falso che può creare non lo so problemi di ordine pubblico non lo so basta per la disinformazione cos'è prima dovremmo metterci d'accordo noi per capire cosa intendiamo con questo termine per il DSI fondamentalmente quando tu puoi avere un impatto sulle elezioni sulla democrazia utilizzando appunto questo linguaggio generico loro predispongono gli strumenti per se non rimuovere quantomeno attenuare l'impatto di questi contenuti ora siccome mi sono stati segnalati alcuni tweet in particolar modo è nato tutto da io faccio ogni mattina che lo chiamo il caffè amaro quindi è uno short tecnicamente diciamo un video da un minuto in cui parlo di una notizia ecco quel giorno la notizia era il famoso missile che ha colpito l'ospedale di Kiev dove c'era il reparto pediatrico ecco lì tra l'altro la ridosso proprio dell'avvenimento io in questo short dissi molto semplicemente che bisognava andarci con i piedi di piombo in pratica che poteva essere e secondo me era più probabile un missile di contraerea ucraina ad aver perso diciamo la rotta avendo avuto un fallimento che si era schiantato sull'ospedale ma poteva anche essere un missile russo non c'erano sufficienti informazioni in quel momento per dare una risposta chiara e definitiva e quindi questo caffè amaro si chiudeva con l'esortazione ad andarci con i piedi di piombo questo è semplice il dubbio e basta il dubbio per fare incazzare un sacco di gente un sacco di gente si è incazzata perché il concetto è o con noi o contro di noi quindi nel momento in cui tu poni il dubbio non va più bene ho ricevuto per qualche giorno tonnellate di insulti vabbè insomma quello che ti puoi immaginare la famosa shitstorm di twitter cosa che non mi tocca anche perché 99 su 100 di questi erano profili anonimi io credo anche falsi però a un certo punto devo essere entrato nell'occhio vigile di qualcuno che si è organizzato poi ho trovato anche un gruppo telegram in cui c'era evidenza di ciò e hanno iniziato a segnalarmi questi contenuti in maniera organizzata diciamo così nel giro di breve è stato rimosso quello e poi a cascata ne sono stati rimossi una ventina circa di miei tweet in generale e tutti mi arrivavano con la dicitura rimosso perché viola i termini del regolamento europeo ho fatto tutti i ricorsi li ho persi tutti e la cosa interessante è che io ho subito quelle che a mio avviso sono delle minacce da parte di un giornalista ucraino italiano di origine ucraine il quale mi paragonava ad un gerarca nazista dicendomi di fare attenzione perché altrimenti avrei fatto la sua fine in pratica questo gerarca era stato condannato a morte al processo di Norimberga e poi ucciso ho segnalato questi tweet e la cosa incredibile è che invece secondo la diciamo la corte non so chi ci sia dietro questi invece erano assolutamente rispettosi del DSA e quindi andavano benissimo e non potevano essere rimossi anche lì avevo facoltà di fare ricorso l'ho fatto ma l'ho perso anche in quel caso quindi quelli sono rimasti online che rende un po' particolare no? il modo in cui funzionano queste cose tu puoi minacciare qualcuno dicendogli che può fare la fine di uno condannato a morte ma quando un altro ti dice che c'è un dubbio su una cosa tu glielo rimuovi a questo proposito mio vorrei spingermi dico un'ultima cosa poi dici tu cosa ne pensi perché mi ha telefonato non dirò mai chi è ovviamente però mi ha telefonato un politico di altissimo livello di livello altissimo italiano che in realtà è una persona diciamo di cui ho anche stima però fondamentalmente quello che mi diceva lui è guarda attenzione l'Italia cioè tu devi capire una cosa l'Italia è in guerra che poi non si chiami guerra non ci siano le bombe queste sappiamo tutti e due che sono cazzate ma è in guerra quindi fondamentalmente c'è comunque una in soldoni anche se le parole non erano queste c'è un aggressore un aggredito devi decidere da che parte stare la parte è questa ovviamente non c'è alternativa di altra parte e quello che ha detto con queste parole era la democrazia in una situazione del genere deve prendere qualche precauzione perché si deve tutelare e quindi in sostanza i soldoni era stacce perché è così se è in guerra ti rimuovono le cose perché dici cazzate direi che è abbastanza eloquente insomma spiega molto bene la situazione perché poi di fatto è così aspetta che ti ho perso ancora te Andrea sì perché io ti ho perso un attimo ho perso un attimo l'audio proviamo ok se faccio così ogni tanto dovrebbe dovrebbe aver registrato ok ok prova a parlare Andre ci sono mi senti eccomi ora si ok ora si ora si perfetto ok no ecco cioè in verità quello che dice è molto interessante perché è una conferma dall'alto di analisi che un po' no tanti stanno cercando di fare negli ultimi anni e l'idea è che appunto o questa guerra in Ucraina sia stata un acceleratore di alcuni processi che già stavano trasformando le nostre democrazie liberali già siamo passati abbiamo alle spalle la fase delle socialdemocrazie poi siamo passati alla fase delle democrazie liberali diciamo l'impressione che in questa fase la guerra in Ucraina stia fungendo da acceleratore per diventare diciamo delle democrazie puramente procedurali formali ma con poi una sostanza fondamentalmente autoritaria no e quindi c'è un po' questo rischio la anche la diciamo l'ascesa elettorale delle destre per come l'avevamo interpretata noi va letta un po' in questa proprio in questa in quest'ottica nel senso che l'egemonia liberale neoliberale che ha governato con tutti i suoi limiti ma anche pregi negli ultimi 40 anni è in crisi e proprio perché siamo se vogliamo in una situazione di guerra e in guerra quindi anche certe libertà formali che pure ancora esistevano se a livello giuridico o costituzionale c'è il rischio che vengano ridotte nel mondo dell'informazione e te lo vivi in prima persona noi lo viviamo in prima persona insomma demonetizzazioni shadow banning anche noi purtroppo subiamo questo è una prospettiva privilegiata su questo processo che è un po' un processo abbastanza forse epocale su cui merita riflettere non si può parlare di parlare di fascismo sarebbe sbagliato perché non è diciamo confonderebbe solo le acque ma di un ne autoritarismo autoritarismo forse sì non so perché ne pensi beh io penso questo penso che fondamentalmente quello che è successo è che il potere è stato gestito molto male negli ultimi decenni molto male nel senso che il potere può essere gestito bene o male non dal punto di vista del risultato nel senso che ha fatto bene o ha fatto male per chi amministrava intendo dire male nel senso che che abbia fatto bene o male nei contenuti non è stato in grado di rimanere percepito come qualcosa di autorevole cioè il potere ha perso autorevolezza dove con potere io descrivo in realtà non necessariamente i governi ma tutte quelle organizzazioni e istituzioni che sicuramente comprendono anche i governi ma che vanno oltre anche il soft power anche il soft power non sembra funzionare assolutamente sì sì vanno guarda dai giornali alla finanza passando per le grandi corporation quindi tutti questi soggetti indubbiamente descrivono quello che ho preso nel suo complesso è il potere perché poi di fatto da soli possono indirizzare e dirigere l'intera società e per un periodo l'hanno fatto anche bene ripeto bene o male nei confronti non del risultato ottenuto per i loro popoli quindi se li hanno fatti prosperare oppure no ma più che altro dell'immagine che riuscivano a restituire di loro stessi ora a un certo punto questa cosa ha preso una piega assolutamente a mio avviso chiara e hanno perso autorevolezza cioè non sono stati neanche in grado di nascondere il fatto di stare amministrando male i paesi le popolazioni possiamo parlare in questi termini dell'Europa quanto degli Stati Uniti in realtà perché secondo me è una cosa trasversale all'oceano atlantico ecco perdendo autorevolezza chiaramente cosa succede succede che la gente ha trovato un capro espiatorio che magari in qualche caso è giusto in qualche caso è sbagliato ma c'è qualcuno di cui vuole la testa e la vuole in modi diversi la vuole perché vuole distruggere l'Unione Europea perché c'è il leghista che gli dice che non lo so c'è il confine aperto oppure l'Europa vuole farti buttare il latte che hai prodotto o ti vuole rubare la spiaggia che tu ti sei guadagnato per decenni in cui l'hai presa in gestione da parte dello Stato e per dire con alcune di queste cose sono d'accordo con altre no ok però non è importante sono istanze che vengono cavalcate perché la base cioè la gente sotto è incazzata nera per mille ragioni gli si dà un indirizzo a volte giusto a volte meno giusto e quello che ottieni è che tu hai ma non è solo qui non è neanche questione le destre non le destre le sinistre posto che io sono di quelli che pensano che esiste una destra ed esiste una sinistra sono cose diverse hanno scopi diversi e non mi piace chi dice no ma perché destra sinistra non conta più nulla conta e come però in entrambi questi schieramenti si creano queste dinamiche per cui poi alla fine c'è una rabbia che da qualche qualche modo si deve sfogare si sfoga nei confronti di un potere che perde autorità il quale si arrocca nella maniera più sbagliata possibile perché lo fa con autorità anziché con autorevolezza non potendola recuperare e utilizza l'autorità e quindi ti dice tu non puoi parlare online di queste cose o meglio lo puoi fare finché non conta nulla nel momento in cui diventa una cosa che ha un impatto io ti ci blocco non te lo faccio più fare perché mi stai danneggiando mi stai rompendo il giochino non rendendosi conto in realtà che tu lo puoi anche fare perché hai il potere di farlo di bloccarmi ma quello che ottieni è che fai aumentare la pressione ancora di più prima o dopo la pentola a pressione salta per aria perché tu togli qui togli la chiudi lì impedisci la però alla base tu non stai amministrando bene quello che dovresti amministrare è un segno di debolezza no? c'è un segno proprio di perca è un segno di stupidità di stupidità è un segno di stupidità la debolezza c'è senza dubbio e il modo in cui gestiscono la debolezza volendo giustamente dal punto di vista loro conservare il potere visto che il potere tende sempre ad autoconservarsi lo stanno facendo nel modo più stupido possibile e se può solo peggiorare ovviamente credo ma la stupidità adesso potrebbe anche essere indirizzata alla violenza ma non cambierà nulla perché in ogni caso la realtà delle cose è quella cioè prima o dopo la tua testa la vorranno e poi quando succederà non è che si risolveranno i problemi se ne creeranno di nuovi evidentemente perché funziona sempre così nel caos poi è difficile che si risolva il caos con un qualcosa di assolutamente illuminato e che corregge tutti i problemi quindi è una situazione a mio avviso molto preoccupante se la guardo macroscopicamente per queste ragioni qui non so se ho risposto alla domanda sì 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 no no chiaro 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 e senti invece spostandoci in America ho visto che hai fatto un video dedicato intanto all'attentato di Trump perché lì appunto erano solo diverse teorie anche più o meno complottiste comunque chiaramente siamo in America quindi si tenta viene viene quasi ucciso un candidato alla presidenza quindi farsi la domanda chi c'è dietro è una domanda più che lecita che deve essere fatta però in questo momento in questa fase quantomeno non ci sono credo non so se era questa anche la tesi elementi sufficienti per sostenere teorie alternative da quelle ufficiali quindi questo è un po' questo è un po' il fatto quindi chiederei qualcosa su questo e poi per chiudere anche qualcosa appunto sulla sulla assolutamente probabile candidatura di Kamala Harris che prende il posto di Biden se secondo te ha speranze di poter di poter vincere le lezioni allora sulla prima cosa sì sono d'accordo nel senso che io credo che quell'attentato sia stato fatto da quello che mi sembra a tutti gli effetti essere uno scappato di casa per mille ragioni si presenta ad un appuntamento del genere diciamo storico con un'arma non adeguata perché quella non era un'arma adeguata a quel tipo di lavoro sbaglia un tiro che con un'arma adeguata sarebbe stato facile e con quella non adeguata che aveva comunque sarebbe stato facile fondamentalmente poi per carità è vero che tutti possono sbagliare anche un super cecchino può sbagliare ma un super cecchino sarebbe arrivato con la strumentazione giusta e diciamo che le probabilità di errore sarebbero state molto basse io credo questo e lo dico sparando cioè nel senso che io sparo e ritengo di essere diciamo non un esperto assolutamente ma di avere un minimo di sensibilità per capire che mi sembra strano ecco ipotizzare scenari che coinvolgono delle grandi organizzazioni perché se un'organizzazione non grande ma minima avesse voluto colpire Trump con quella finestra di opportunità che aveva da quella posizione in quel modo io credo che oggi Trump sarebbe morto per queste ragioni io ritengo più probabile e molto verosimile che effettivamente quel ragazzo fosse uno scappato di casa che si è presentato lì con quello che aveva che magari era anche bravino però una cosa è sparare al poligono ad un sagoma di cartone una cosa ed essere di fronte ad una scena vera quindi a maggior ragione non sei un professionista perché ti fai prendere da mille cose dall'emozione del momento e quindi sbagli e tutto questo va nella direzione di farmi ritenere che effettivamente mi sembra verosimile quello che è emerso finora questo non toglie che ci sono mille problemi oggi credo ieri al massimo la direttrice del servizio di sicurezza del secret service ha rassegnato le dimissioni ha ammesso che da più di un'ora rispetto agli spari quella persona era stata identificata come sospetta quindi sicuramente ci sono state delle falle di sicurezza è evidente c'era un uomo armato di fucile a 130 metri da Trump su un tetto quindi questo è fuori di discussione vedremo di capire se ci sono degli elementi per pensare e ritenere anche ragionevole che ci sia qualcos'altro però più di così non mi sento di dire fino a per quello che si sa e l'altra cosa che mi chiedevi era relativo a Kamala Harris sì ecco allora voglio fare una chiosa su una cosa che sicuramente è una coincidenza però è un fatto io lo riferisco poi ognuno si farà la sua idea nel momento in cui Joe Biden ha annunciato il ritiro tramite la lettera di domenica è sicuramente un caso però avevo fatto due video uno sulle elezioni del 2020 sottolineando una serie di fatti anche lì che sarebbero stati da indagare sulla liceità delle elezioni sulla trasparenza quantomeno e un altro video l'avevo fatto sul 6 gennaio del 2021 dove insomma c'era da fare un certo racconto per spiegare determinati fatti che in Italia non sono molto conosciuti anche se sono pacifici oltre l'oceano si esatto incredibilmente mezz'ora dopo l'annuncio del ritiro questi due video sono stati demonetizzati e io poi infatti li ho chiusi per i soli abbonati ho detto vabbè fate quello però è incredibile perché io ero col computer davanti e stavo lavorando a delle cose che avevo caricato e quindi sapevo che prima erano in verde per chi lo sa e poi sono diventati in giallo quindi vabbè riferisco il fatto sarà un qualcosa di sicuramente casuale anche se i video erano lì da un paio di settimane e forse anche più io mi aspettavo questo ritiro di Biden sì assolutamente anzi è da credo da febbraio o marzo che lo dico che dico che sarebbe avvenuto in estate perché mi sembra ragionevole perché se io fossi stato il partito democratico avrei cercato di ottenere proprio questo tanti commentatori che ho sentito hanno detto che secondo loro era no non ci sarà il cambio quando ancora si vociferava perché sarebbe stupido perché hanno solo pochi mesi per fare la campagna elettorale io penso che questi non abbiano capito molto bene come gira il mondo poi non so come la pensi tu come la pensate voi ma io credo che questo cada a fagiolo nel momento perfetto perché i repubblicani avranno pochissimo tempo per rispondere la loro campagna elettorale fatta finora viene scaricata nell'immondizia per intero cioè proprio buttata via buttati i soldi buttato il tempo buttato tutto si riazzera tutto devono riuscire a distruggere tra virgolette l'immagine dell'avversario in poco tempo con un avversario che è difficile da colpire secondo me perché per quattro anni ci si aspettava che sarebbe stata la reginetta walk chissà quante cazzate farà non ha fatto niente di troppo stupido ma c'è stato molto intelligente da parte bravo proprio essere un candidato nell'ombra che ora può presentarsi tra virgolette con un'immagine vergine perché se l'avessero candidato un anno fa si doveva prendere la responsabilità dell'appoggio a Netanyahu della guerra adesso è come fosse nuova esatto esatto tant'è che mi è venuto pure il dubbio che sì è vero io lo dico da un po' di mesi ma forse questa roba era organizzata fin dall'inizio cioè lei ha fatto campagna elettorale non facendo nulla per quattro anni questo dubbio ce l'ho e mi sembra verosimile dopodiché lei risolve un problema grandioso che avevano soprattutto un po' tutti e due però soprattutto i democratici che era il problema del ma io devo votare posto che magari sono un democratico che odia Trump però non ce l'ha avuto per quattro anni adesso ce l'ha avuto quattro anni fa Biden magari mi ha deluso sono determinato a non volere Trump non come nel 2020 per cui rivoto Biden e mi chiedo ma devo scegliere tra un vecchio e un vecchio problemi che avevano alcuni no non voto vaffanculo arriva il candidato giovane più credibile per le ragioni appena esposte quindi più credibile alla luce del fatto che non si sia diciamo distrutta in questi quattro anni da vicepresidente è il momento perfetto non gli do neanche tanto tempo per pensare perché se io se la porto in una campagna elettorale di sei mesi otto mesi è difficile perché poi è comunque un personaggio molto divisivo che ha delle posizioni che possono andare bene in California ma nel resto degli Stati Uniti è da vedere e però sai poco tempo si prende la gente così sull'onda dell'emozione gli si dà un'alternativa che sembra credibile io credo che abbia parecchie possibilità di vittoria d'altra parte scusami partivano praticamente testa a testa con lei che non aveva fatto mezza giornata di campagna elettorale dopo oggi secondo alcuni sondaggi per carità aveva già due punti di vantaggio quindi voglio dire sì anche io credo che comunque non sia casuale anche le tempistiche nel caso appunto la Harris vincesse veramente chapeau alla classe dirigente del partito democratico perché in caso l'avrebbe pensata penso veramente nel modo nel modo migliore sì far finta di non aver di fatto governato negli ultimi quattro anni perché c'è un nuovo candidato e quindi insomma sì esatto eh sì e vabbè chiaramente chiaramente staremo a vedere ehm Andrei io ti ringrazio moltissimo per questa grazie a te per questa conversazione chiaramente spero ci saranno tante altre occasioni quando volete sempre tanto di cui parlare quindi grazie ancora grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci vediamo alla prossima giornata grazie a voi grazie a te a presto grazie a te